Ciao a tutti, ho appena concluso il primo ciclo di incontri con i nostri portavoci in Parlamento e negli enti locali per fare il punto sul nostro programma di governo. Continueremo anche domani e giovedì fino a toccare tutti i temi che sono stati già votati sulla piattaforma Rousseau. È un lavoro di squadra prezioso che stiamo facendo tutti insieme, ognuno con le proprie competenze, con la propria esperienza maturata sul campo, nelle aule parlamentari, nei consigli comunali, regionali, sul territorio come sindaci. Stiamo disegnando un'idea diversa di paese, una nuova architettura che non abbia il respiro corto di una legislatura, ma pensata per durare nel tempo. Stiamo lavorando per un nuovo piano energetico, un modo differente di concepire la mobilità, un sistema che tenga insieme rispetto dell'ambiente e sviluppo economico, un modello di Stato che punti sull'innovazione e ripensi il suo modello di tassazione, di imprese e famiglie. Uno Stato più snello, veloce, efficiente, un lavoro impegnativo, lo so, ma entusiasmante. Sentiamo la responsabilità della grande sfida che ci attende e delle tante speranze che sono state riposte in noi. Continuiamo a lavorare a testa bassa, poi nei prossimi mesi saremo in giro per l'Italia, nelle città e nei luoghi simbolo del sistema produttivo italiano, per far conoscere a tutti il nostro programma. Avanti così e forza Movimento 5 Stelle!